Salve a tutti e bentornati ad Overwatch L'ultima volta abbiamo... Ah, siamo sempre... Ah, siamo in attacco, non siamo in difesa questa volta Ah... Questo non mi convince molto No Non mi convince affatto Vogliamo provare Tracer? Pistole impulsi, flashback, traslazione Proviamo Tracer, dai Oh Carino Una mente disciplinata è il più fedele alle altre Wow L'attacco inizierà tra 30 secondi Ah, anch'io, anch'io C'è un cattivone con lo scudo qua davanti Un, cinque, quattro, tre, due, uno La data è inizio Scorda per il calco C'è un cattivone con lo scudo qua davanti Ok Ok Oh Wow Sono completamente esploso Eh, non è ora che ho visto Il carico è mio Allora, dove eravamo rimasti? Forse riesco Vediamo di spostare questa roba Vediamo di spostare questa roba Oh, caolo Oh, oh, oh No, 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 no Aiuto Aiuto Ma cavolo Questa torretta è micidiale Oh Mi sa che No, siamo riusciti a muoverlo di Un pochino Ma buon, per te Oh, caolo Dove? Uff No Che cos'è? Come? Come sono morto? Oh Wow Sono tornata Il carico si muove Unitevi a me Ce la possiamo fare? Forse C'è una torretta davanti a noi Sembra piuttosto Oh Ok Buon per te Amico mio Buon per te No Non ho fatto a tempo a usare Cavolo Come si chiama l'abilità? Flashback Che si torna in gioco E' molto simpatico questo personaggio Oh La trascendenza Oh cavolo Sembra una cosa seria Il carico deve raggiungere la sua destinazione Non vedo Ah Oh oh No Non l'ho Non l'ho Se sono intrappolato non posso usare Flashback Cavolo No No Che cosa è successo? Ah Una Ah Ha lanciato la super Bomba Torretta Limita distrutta Oh Spostiamo Ah Cavolo Oh 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 Dove No No Ah cavolo Una pioggia di giustizia E si torna in gioco Ho ricevuto una pioggia di giustizia Cavolo Il tempo stringe Il tempo scaduto Provida al vostro servizio Oh No Cavolo Sta anche sopra Eh Mi sa che non ce la facciamo Anca no Tutto manca Dieci secondi No Tre secondi Mi sa che finché rimane qualcuno là vicino c'è il tempo supplementare Uff Na Ah Cavolo mmm na calo è difficile oh cavolo eeeh ce la faremo? oh cavolo dove? non li vedo eeeh ce l'abbiamo fatta eeeh ok non lo so io ho sparato un bel po' a caso eh con la super bomba hanno uccisi tipo troppi partita divertente vediamo un po' ah stavamo all'inizio del settimo livello bene grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata episodio di overwatch ciao ciao ciao